Routine viso anti-age a meno di 30 euro. Spesso i cosmetici anti-age sono quelli un po' più costosi che trovi in commercio, poiché contengono degli attivi particolari che servono per contrastare l'invecchiamento cutaneo. Ma anche in questo caso abbiamo creato una routine anti-age completa a meno di 30 euro. Partiamo dalla detersione con la mousse viso Unimo Cosmetics, che è un'azione detergente lenitiva ed anti-age. È un mousse che purifica la pelle rimuovendo gli accumuli di sebo e che soprattutto ha un'azione lenitiva ed antirossori, grazie agli estratti di mirtillo e agli estratti di riso, che proteggono la pelle dallo stress ossidativo e dalle irritazioni. Questa mousse contiene inoltre acido ialuronico che va a contrastare i segni sottili causati dalla secchezza della pelle. Continuiamo la routine con la crema viso anti-age Rasayana, che è disponibile nella versione per pelli normale e nella versione per pelli grasse e miste. Entrambe le creme non ungono la pelle, non la pesantiscono, quindi sono ideali sia di giorno sia di sera. Contengono ingredienti che vanno a nutrire la pelle, vanno a proteggerla dallo stress ossidativo e quindi vanno a contrastare l'invecchiamento cutaneo precoce. Quello che differenzia le due versioni è che nella versione per pelli grasse e miste trovi anche degli ingredienti che vanno ad opacizzare la pelle, quindi vanno a contrastare la lucidità e soprattutto che vanno a regolare la produzione di sebo, così da ridurre l'aspetto di pori dilatati e di imperfezioni tipiche della pelle grassa. Nella versione per pelli normali e secche trovi invece degli ingredienti nutrienti e rigeneranti per il benessere della pelle e soprattutto degli ingredienti che vanno a contrastare l'irritazione in modo tale da avere un colorito più uniforme e sano. Se ti è piaciuta questa routine e se vuoi routine simili per le tue esigenze lasciami un commento e noi ci vediamo al prossimo video.